ed eccoci qua ragazzi per questo nuovo video doveva essere un video questo dove vi facevo vedere tutto secondo giorno però mi sono reso conto che usciva troppo lungo quindi ho messo solo il passo sella come appunto vi accorgerete dal titolo ho voluto separare un po i vari passi che ho fatto facendo vari video il primo video è questo gli altri usciranno prossimamente quindi iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace e gustatevi il video eccoci ragazzi adesso andiamo a cercare di fare colazione giù al paesello paesone e mi raccomando quando fate campeggio bivacco lasciate pulito lasciate tutto bello pulito se trovate qualcosa qualche cartaccia la prendete la buttate via anche se non è la vostra lasciate il posto in cui siete stati pulito mi raccomando molto importante che bella giornatina ragazzi oggi programma altri passi passo sella passo pordoi penso dovrebbe esserci in mezzo qualche altro passo di una bella bella giornateva anche oggi che ragazzi collazione fatta ora siamo a vigo di passa e incomincieremo a fare un po di passi primo dovrebbe essere il passo sella qua c'è gli impianti di risalita che spettacolo ragazzi bello il trentino bello 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 non ho mai fatto il trentino in maniera così così bella così approfondita diciamo comunque qua ci sono dei nelle bene zone camping bello il trentino bello molto caratteristiche anche le le case che hanno sempre qualche dettaglio in legno ragazzi le chiesette tutte belle belle caratteristiche dei borghi di montagna bello 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 guardate che bello paesello lupaisello 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 mercato lullu mercato mercato Qua c'è il mercato ragazzi Iniziamo col passo Sella Da una strada in comune col passo Pordoi Iniziamo col passo Vava vava che spettacolo Le dolomiti ragazzi Le dolomiti ragazzi Spettacolo Che cacchio Spettacolo E ci sono 14 gradi Si gela Si gela no però Un po' freschino Che spettacolo Bello 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 Mi piace Mi piace Mi piace Ottavo tornante No Wow Ma in mezzo alle rocce Wow Wow Spaziale Spaziale Passo Sella Che spettacolo Che spettacolo Molto caratteristiche Molto belle Che ragazzi Questo era il primo video Dei passi Adesso non so Quando usciranno gli altri Comunque Ho varie programmazioni In testa Vi ricordo ancora Ragazzi Se non l'avete fatto Di iscrivervi al canale Per vedere altri Di questi video E Alla prossima Ciao Ciao Ciao